perché è giusto consentire, i tempi sono contingentati e sono esauriti, comunque per ragioni di cortesia diamo la parola al senatore Martelli sull'ordine dei lavori che sull'ordine dei lavori può intervenire, prego grazie ma non è una questione di cortesia ma di diritto, comunque giusto per avere un voto consapevole io vorrei chiedere al relatore chi sarebbe questo Giacomo Rossini a cui è intestata una fondazione non vorrei che parlassimo di Gioacchino Rossini il relatore ha fatto il suo intervento, la tabella è una tabella che è riferita a una legge del 97, credo quindi è reperibile e l'ho letta la tabella sul sito del suo gruppo parlamentare poco fa, quindi lei la può agevolmente trovare sul sito del gruppo 5 Stelle che l'ha pubblicata dichiaro aperta la votazione parere favorevole del relatore governo parere favorevole del relatore governo